Mi chiamo Scalvenzi Claudio, vengo da un piccolo paese in provincia di Varese, Gemonio, e ho 40 anni. Prima di conoscere Ecoline Wash ero un installatore di impianti dati e anche impianti elettrici. Ho scelto Ecoline Wash perché ero in una fase della mia vita dove stavo cercando un'alternativa al mio vecchio lavoro. Il mio futuro lo vedo sicuramente in espansione e magari dare anche la possibilità a qualche altra persona di conoscere questo tipo di attività. I miei clienti tendenzialmente rimangono veramente soddisfatti del servizio offerto anche perché non ha niente a che vedere con l'autolavaggio normale e quello che fanno loro è un forte passaparola avendo visto il lavoro fatto bene. Sicuramente la mia soddisfazione di fare questo lavoro è intanto essere ritornato indipendente e avere la possibilità di offrire un servizio valido. Sicuramente la mia soddisfazione di un servizio valido è un servizio valido.